Sì, adesso sentiamo un secondo se si sente, sì, ok, a Mumu, mi frena la Mumu che è carino ma no, buona dai, allora mi serve il cellulare come al solito, che probabilmente sarà l'unica cosa che prenderà le cristianate di, dai vieni qua bello, non essere vergognoso, qua. Qua, no, qua, pari c'è giù giù, anche di chi appena parte, magari, 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 devo anche risettare, mi sono dimenticato che devo risettare, va bene, io risetto un attimo la cosa, non verete molto probabilmente, dovrei fare altre 4 ore anche, giusto per vedere, per essere, Sistemato, ma, no, non voglio fare questo, voglio fare questa, questa qua, perfetto. Magari, devo anche... Sta zitto, tu. Sì, devo fare un secondo la qualità di training, ma giusto perché... per esettare le cose. Ti senti furbo. Perché niente di... Ciao, Ari. Ti prego. Con tutte le cose che posso aprire, vai qua. Beh, intanto... se non mi vedete esettare le cose è un problema o meno. Parapapara... Dovevo farlo prima, non sono arrivato adesso al computer. Cosa? Non ho sentito così adesso. Ho detto, dovevo sentare prima, ma sono arrivato solo ora al computer, non ho avuto il tempo. Chi ha mai il tempo? Non parli splattare. Al solito tuo non ti... Non parli. Dai. Sto facendo niente, sto settando le impostazioni grafiche perché se no... Se no... Se no... Devo settare le impostazioni grafiche... Sono in live. Eh, ma che ne so. Non so come questa scompostazione e non me la faccio dal Google. Dai, però, quanto ti ci vuole a partì... Bella creptomanciaria, eh. Funziona. On point. Non ho giocato il Zoyal. Volevo provare il nuovo Zoyal. Il nuovo Zoyal, sai. Le nuove animazioni. Ok. Ehm... No, questo... Eh, sì. E io mi fido. Facciamo bassa per non fare veramente a schifo. Che devi fare, tu? Vado a buttare la patomiera per non è piaciomata. Non ci vuole. Tu e ti le calze? Cosa trovi? Cosa... Vabbè. Cosa vuoi? Tanto non mi vede nessuno. Ma non è perché ti vedono perché... Come cavolo fai a camminare con l'infardito le calze? 30 secondi alla generazione dei livelli. Vabbè. Lo sarei. Ok. Mi sta bene così. Questo perché sono un fenomenale veramente bassissima. Perfetto. Dunque, vai qui. E si va di Aran perché mi devo sgrassare da un po' che non gioco. Effettivamente non è che mi devo sgrassare adesso. Sono grasso. Grossa, grosse. Va la 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 la. Eh... Te l'avevo già mutato a te. Ti fai tirato fuori il volume, tu. Va bene. Questa lui. Daglie. Ah, devo anche vedere una cosa adesso. Pena parte. Pena non parte. Eh... Questo ti volevo vedere. Ah! ... Atox, Aria, Kali, Alistar,arestra, Niv, Ah, visto che hanno messo a posto quel, ah, vi faccio un flitfoot con Jin, va là, trionfo, ruba vita, non mi fa capire se si è capito attacco la guardata ruba lo Jin, aiuta, per la carità, però, ruba vita in ara soprattutto. Ok, vediamo, sperando che non laghi da schifo. Chi siamo? Ah, papapapapa, non mi piace, oddio, abbiamo un Ivern. No, non sopporto Ivern. E il Nasus andrà full AP, beh? No, non va full AP, forse. È miracolo? Kaiza, Nocturne, Xerath, Maokai e Twitch. Vero? Xerath e Maokai? Non mi preoccupa Twitch, troppo. Devo andare on it, letteralmente un it. Te devo coppare con un solo colpo. Perché se no, che cosa sto facendo? Mi sto dimenticando anche una cosa. È che per questo che sono un po' scassato sul cavolo di... Ecco, magari. Forse questo può aiutare a vedere cose, forse. Non sei bloccato qua. No, sono stupido che soltanto io. Comunque. Ah, me lo devo ricordare più spesso. Spesso. Più spesso. da 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 da. Questo, magari, cambia un attimo una robina che aiuta. per chiudere gli app, poi c'è un'alcio. Lo schermo. Chi ii manca. Malza, nocturne, Maokai, Maokai. Maokai, come dovremmo buttarlo? Lo butta Tristana o Malza, forse. Io, a un colpo alla volta, a Maokai gli faccio tanto di quel ridere. E... Nocturne decide chi deve morire tra di noi. Probabilmente muoio io, perché Tristana può scappare, ma Malza può... bloccarlo. Nasus e Gryvan, non solo bersagli validi per Nocturne. Che vuol dire, c'è... Ciao Nocturne, sono Jean. Cosa hai fatto? Perché è un ghiacciolo in mano al 18 di ottobre? Perché vuole rimangermi un ghiacciolo, non posso? Al 18 di ottobre. Ah no. Sti cazzo. Il ghiacciolo li mangio anche d'inverno, io. Ok. Perché hai fatto... Perché devo mettere il sacchetto e il rapatumiamo su, dimenticato. Eh, che problemi. Stasera va bene la... la carne con le patatine? Sì, che sembra. O per friccia, basta presto. E la carne? Va bene, ho scelto ora. Eh? Va bene ma fritta o imparata? Eh, dipende che cos'è. È carne imparata. Eh grazie cos'è! È friggio, che devo frirti. Vengo. Allora, quando è giustato, ti lascio che... Mmmmm. Buongiorno. Vedrò di recuperarmi altri. Ok, vediamo un Jean laggante. Diversi chi ha da saltare di fuori. Perché già Jean è un lag di suo, diciamo questo, per carità. Però... Dai, almeno. Se scrivete e non vi leggo, sapete che è tutta colpa del... di Twitch OBS. No, Twitch no, purtroppo. È colpa di... Paura. Eh, sei un imbecille Nasus. Eh, sei un imbecille Nasus. Eh, sei un imbecille Nasus. Sono un maniaco dell'ambientale. Dovresti con noi. Buca puttana a botta! Buca puttana a botta! Penis. Ok, stanno facendo male Powerful. Non è Flash che sta nel corno. Buca, so, si! Si, se le prendo. Sì, se le prendo. Non so perchè ho potenziato la WP e tutto ciò ma l'ho potenziata. Intanto basta. Eh contro Xerath. Non so perchè ho potenziato. Non so perchè ho potenziato il giusto. Non so perchè ho potenziato il giusto. Non voglio neanche dirgli che cosa è un cavolo pieno di cose. Quasi morto coso. Quasi morto coso. Quattro. Non andiamo molto avanti così. È stato molto bello il flash di Kaisa comunque. Che ha cercato di scappare la mia ulti, non l'ho capito. Quattro. 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 Ragazzi c'è. Non ho visto nessuno. A me non dispiacerebbe. Quattro. 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 Non avevo il colpo di colpo in canna, c'è uno sport colpo di colpo. Mi sono curato, grazie. Mamma mia l'ho evitata come! Sì, sicuro. No, è uno sulla finance. Eh, dovrei fare una cosa, ma non è il caso. E' un po' più facile. 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 E' un po' più dunger. Non avevo fatto dunger. E' un po' più dunger. E' un po' più dunger. E' un po' più facile. 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 Cosa è la flash? Eh, lo so. E' un po' più facile. E' un po' più facile. E' stato molto direttamente questa caesana. Non faccia nulla. non so che morrò tra poco Questo è il mio amore Eh Poi tocca vedere fermo piuttosto Eeeh Oh tiii Sopra presa della natura Sopra presa della natura Eh Stimani Eh Devo evitare Non va Non l'ho ripassito Stato 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 C'è cance di me la cuio, va! Non c'è bisogno che ci spoglie i venguessi? ma fottiti puttana ma fottiti pure tu quasi nessuno si è girato su un oktun veramente non penso neanche gli mancasse così tanta vita e questi per forza e hanno armatura sti pezzi di cuore no neanche un po' non ne vale la pena allora mi buildo questa la felicità è una pistola fumante la felicità è una pistola fumante che belle le fasi di G non me le ricordavo non è una pistola fumante non è una pistola fumante non è una pistola fumante ma che sto facendo? bene però ok se mi faccio questa ma doveva mi... mi buildova la brama a sangue prima preferisco di che allunga la brama a sangue dovete depusciare ragazzi se non depusciate oh peccato la mia trappola fa un male cane se tu ci rimaneva sopra era morto aspetta 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 no non ci sono passati quasi ti hai fatto il cazzo Che male che gli ha fatto Vieni puttana Eva Ah io non ho paura che te Esatto Ma ho fatto flash giusto in faccia Non potevo aspettarmelo veramente Perché hanno ammazzato Twitch Buono Ha aspettato troppo Ivern Peccato l'ha fatto curare tantissimo Ok L'arte richiede un accesso L'arte richiede non ho capito cosa Ok Appena arrivo Sarebbe bellissimo ultare ora Ma no c'è Eh purtroppo lo sappiamo Aspettavo che arriva così Notto non mi sa che è nato FK Come è crashato Anato FK Non lo so cosa Non c'è Non lo so cosa ha fatto Ma l'ha fatto Non c'è Non c'è Non ho capito per quale motivo C'è ne ho capito per quale motivo Niente abbiamo fatto Abbiamo giocato come volevamo Semplicemente Ma abbiamo fatto un po' male Poi il testatore cade Non penso che Malza riesca a difendere Oddio Che brutta ultima Maokai Lo spettacolo non si verrà Ok Qua mi sono anche per tutti Bersagliato Maokai Vero? Non vedo un altro modo In cui siamo potuti morire A sto modo Ma nooo Ma perché l'ulti su maokai? No Malza Malza Qual è stato il motivo Dell'ulti su maokai? Bellissima per te Oh no 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 Voleva fare il beitone di buitoni, come qualcuno disse negli stream di LOL, però... ... L'ho ucciso Twitch Ragazzi però Oh dai Potete farcela Fado full critico O un video alto C'è anche bisogno di chiederlo Sei morto te No Ma qualcuno lo Dai ragazzi La tua Ehi Da cosa è prestato Ehi, hai vero, una mano, dai Twitch, no, niente Appunto Non ulterò adesso, aspetterò che Maokai ulti Perché se no qua Ehi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu no, tu. Iver mi ha fatto... Mamma mia. Nasus forse potevo votare. Minchia. Quante chi le ho fatto? Non ho neanche visto. Ho fatto malissimo. Ho fatto A. Non essendo buono con gli adicare, ho fatto solo A. Quel Twitch. Che nessuno si cagava Twitch. Pollen. Va bene. Dove devo fare di missioni? Ah, mai. Ah, questo si può fare soltanto nelle normal. Che balle. Questo devo ancora farlo perché non ho mai voglia. Sono a 21 punti nel Pick'em. Se vuol dire aver azzeccato bene i punteggi dopo. Anche perché io ho fiducia sulle Niveritality. Sono i terzi, non guardi almeno. C'era il Pick'em, sì. Quando? Dimmelo tu, magari. Ma che cazzo? Io penso che lo sai. Però tu non giochi, è vero. Walking at tomorrow. Dai! Malphight! Non voglio giocare Malphight. Ah, Tox, Jace. Buongiorno, Zira. Aeri. No, penso che era questa. Prascendenza, così mi vede un po' di salute. Brucciare. Prascendenza di spirito. E... Taglio profondo. Non mi buildo salute in questo modo, in realtà. No, me lo faccio la staglio profondo. No. I miei mitch tank, se li dobbiamo ammazzare, dobbiamo ammazzare tutti assieme. No, dobbiamo Teemo. Abbiamo... Oddio, abbiamo Rek'Sai. Ah, che cazzo c'è... Cosa vuole una Rek'Sai? Ahì. Allora, c'è un po' vore a qualcuno, magari, Toh. C'è un po' vore a qualcuno che deve fare le missioni con le skin iscritti. Ok, è abbastanza vecchio ormai come missione, però... Sa mai. Blitzcrank, Sindre, Zreal, Vegare e Nidale. Mamma mia, i cancri! Oh, mamma mia! Non dovevo dirlo, forse. Non importa! Che cavolo! Che palinculo che sono! Blitzcrank, Vegare e Nidalee! E Zreal pure se lo gioca bene con la combo! Non beccherà me, spero. Ci saranno le mie piante. Però! Oh, forca, futtana, forca. In Aram Palo In Eh, culo, lei sì. Perché culo ce l'ha, però. Partita. Eh, partiamo di... Questa. E via! Ciao, Timo! Avveleniamoli tutti! Io non avveleno, però tu sì. Quindi... Presto, c'è molto altro... STI CAZZI! Molto. Timo... Non so bene perché ha rischiato a quel modo, ma ha rischiato male. Ma cosa ho beccato? Ma... 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 C'è un po' più agli vinci a fare danni C'è un po' più agli vinci a fare 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 Bella C'è un po' più agli vinci a fare 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 Biff C'è un po' più agli vinci a fare 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 Cube Si Malissimo Malissimo Però Sai Ulti Ragazza Cioè Con questa quadratina Non andiamo da nessuna parte All'ulti E che sai La tua ulti Io segnalo Tanto morire per morire Ammazzalo Non andiamo da nessuna parte Le piantine belle Eh la povera del pulo Non andiamo da nessuna parte Ok Ok Sì 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 Va bene Sì 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 Chi è? Non è Vel'coz L'integrazione Sì, presco la cometa No, poco dopo, non ne vale la pena Devo aumentare al massimo i miei danni Allora, sì, ne vale la pena Grazie, sì Tanto non mi buildo salute con Vel'coz Quindi tanto vale prendersi in dettaglio profondo Eh, nessuno di noi è buono giocare ai masterini, sai? Ehi Deve essere pronto Rapido Ma non t'aprire tu No, è perfetto La 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 Non so se ti entendo cosa stai dicendo, ma piantala Non so cosa stavi canticchiando, ma non lo fare Oh mio Dio E beh, e cari Megalio, dai Ma perché Ivern? Perché Ivern? Vedo che con la scorsa in sestamento è ovviamente più sensato di Ivern Beh, e cari sono a Sinjet, vai in Italy Uuuuh, gius Sinjet non lo beccherò mai Posso slow-warlo Con la Q E cari del bosco antico, e cari, cari, cari E cari funziona così Ti do una giocchiata potente E poi muoio Ma ti do una giocchiata potente Almeno Non so che caio non è male Nelle norme Allina funziona più o meno così Dai, 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 dai Che voglio potenzione Non importa Ho sbagliato il tasto Aio Benvenuti nell'abisso ululante Quanto meno inaspettato Basta non so che io lo Sinjet Svelo completamente tasto in ogni caso Ok, non so se è legale che fa tardi la scorsa testamento, ma Male? Ok, ora che ho la mia W carica Non si parla utile i cui mezz'emiglio sono un mio idiota BASTARDI! Eh, l'ho dovuto flasciare, però dove ne muovo io se ho flasciato? Non ho capito perché non è andata vai, ma va bene. Vivo! Vieni a tu, vieni a tu, vieni a tu. Mi hanno abbandonato a Nidalee per uccidere cosa? Dai ragazzi! Ci mancava pure! Mi hanno abbandonato in vita nessuno di loro, però... Mi hanno abbandonato a Nidalee o ancora no? Mi hanno abbandonato a Nidalee! Mi hanno abbandonato a Nidalee! Mi hanno abbandonato a Nidalee! Viva! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 I don't fear the mana. Grazie a tutti. Che cazzo non ci sono i nigno lì sotto. Noo Galio ve lo fa giustiziare. Eh, mi spiace. Che cazzo... Hai partita l'ultimo. Non volevo partita l'ultimo. Parco schifo... che cazzo... 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 bello che cazzo... bello che cazzo... che cazzo... che cazzo... che cazzo... credo che non usiamo stoles e usiamo che... Sì E con cosa sto beccando ogni tanto? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo un team che non vuole inseguire si... Sono stupido. La prossima cosa che mi tirano in testa è caipo. No, 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 non perdiamo tempo. Non hai vita, va bene. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ragazzi, la mano però dai, non lasciatemi a morire da solo. Cavolo. Cavolo. No, 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 no. Non lo sto solo. Vattene, che arrivino stare a fare l'imbecille. Voglio tornare tutti. Conoscenza tramite... Disintegrazione, dai! Dai, ragazzi! Non potete... 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 Ok... Oh... Va bene... Beh, client... Ci sei? Ti stai baggando? Non ti stai baggando... Dai... Per una volta che gioco con un bell'Ivern... Solo con la mia presenza comunque stavo tenendo lontanissuna e Veigar... Peccato... Non ho fatto danni... Ho fatto tanti danni... Tatti... Ho fatto tanti danni... Ho fatto... Dai... Faccio l'ultima... Poi chiudo un attimino prima... Sì... Comunque questo... Eimi... Nele fiamme negli... Dattacca il cazzo... 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 vitale non è mai la pena della fonte vitale così non sono pausa i barili perché altrimenti sarebbe ottimissima la fonte di tale che gli alleati ma va bene crisalide vitalizzare però e ovviamente feste in piscina o le croma non so che non mi ricordo se l'avevo o meno game game of thrones of stronts volendo anche dai dai timo vega zed nasus e sona ma perché cazzo sono gameplay contro un team del genere oh mio dio e cosa dovrei chi dovrei sparare a nasus a chi si avvicina troppo a chi si avvicina troppo la domanda perché il punto di gp festa in piscina di gp in generale non di festa in piscina anche festa in piscina però più gp generico funziona col grasp che carica un po dietro attacchi su minion poi pam cu sul nemico si giocherebbe di kleptomancy game piscina sono un pezzo di stronzo quindi vado di quello che adesso e zeal abbia cambiato l'abilità dark harvest e zeal potrebbe essere una buona idea fleet footwork non ce l'ho mai visto molto bene grasp of the undying pure non c'entra un cazzo con e zeal perché mi lì perché ranger game thing è buono col gas perché anche se ranger da un attacco mi lì io mi pilo ovviamente il nostro mezzo il mare non ha memoria ma io sì il mare non ha memoria ma io sì ho sbagliato tutto quello che potrò sbagliare non so perché ho pensato questo pavile tagliare una gola oh ma guarda un po eh va bene non è un cavolo ma va bene eh le patatine si non posso parlare no 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 Grazie a tutti. 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 Dovevo morire. Non hanno molti controlli per Zed. Per l'armatura che contro Zed. Non ho capito. Grazie a tutti. Non ho capito. 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 niente il sale su una ferita Dallon, ed è ciao poteva non andare neanche Dallon ma cosa si è inviuta tutta una pistia ah, sarà un electrocute sto giocando di schifo adesso io gameplaying sono veramente la me fondale Gli uomini e il mare sono tra l'altro Gli uomini e il mare sono Gli uomini e il mare sono tra l'altro 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 Grazie a tutti Non so dove sto cliccando ma sto cliccando Grazie a tutti Oh in qualche modo abbiamo pushato a morte Non so come Allora Dimentico raramente Ma non perdono mai Vero Robali Non so come Non so come Ragazzi Non lo so Che è morto all'istante Mundo? No Mundo è morto per ultimo Non ha ultato Mundo Perché non ha ultato? Non muoio mai più C'è morto all'istante C'è morto all'istante? Non è neanche stata la rimboscata di zona Scherza? No, il mod è morto all'istante? Lo scariciamo è stato completamente inutile E che? Boh, non l'avremmo ammazzata in tempo probabilmente Io faccio cagare con gameplay Che lo so Però cavolo Che brutta Mamma mia Ho trovato multibrutta alla fine pure Non lo so perché Più o meno calista Non mi va bene palista in realtà Level up Level up Ok Mi d'anni li ho fatti comunque Rispetto comunque a tutto Che schifo Che schifo Mamma mia Va bene Apriamo sta capsula Vediamo che cosa c'è Azore Non ce l'ho già azore Qua prima o poi riuscirà KDH Prestige Edition E la prenderò Qua prima o poi arriverò a 10 E chi prendo? Allora tanto Malzarekstech a me fa cagare Pure se ci fosse Non c'è Malzarekstech Come c'è uscito? Ok Allora O prendo Annie O Eikarim Perché Eikarim è bellissimo Eikarim mi sa che è l'ultima skin che mi manca di Annie Credo Non posso vedere Vado a vedere Vado a vedere Che cose Questa skin di Olaf Ce l'ho E io sono uno scioppone convulsivo Di quello che mi piace Soprattutto per Sto cazzo di Emerdinger Porca puttana Sei bello Una skin bella per Emerdinger Incredibile Io giuro Questa è carina in game Ma qua è veramente orribile Le altre sono tutte brutte Unica bella Anche è Emerdinger Nonostante tutto Questa è la luna mezza decente Ma questa è proprio Bella Belli draghetti Io amo i draghi Poi se me lo mettono su Emerdinger Sì Deve essere Budlaker è fai Fai tutte le premissioni Dove è fai Che cazzo Ok Ehm No No Posso Se ce la posso fare A 34 Ce la posso fare Ok Comunque Comunque Detto ciò Fatto ciò Io Chiudo qui Stavo giusto vedendo un paio di cose Amumu Infernale Non è brutta Però Cioè Amumu non ha già di skin belle Volendo Amumu Infernale no Vancouver no Amumu Ma 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 No 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 Quasi Ecco Questa è bella Piccolo Cavaliere Mi piace tanto Questa Questa sorpresa è molto carina E anche Infernale Però ci sono già In piscina e a piccolo Cavaliere Chi se ne frega delle altre Va bene Io Detto questo Fatto questo Ripeto Chiudo qua Direi Che passo domani Domani A fallout No volevo fare la settimana Tutta diverso Solo quattro giochi Per andare sul canale E sto aspettando Che arrivi in novembre Per portare Darksiders 3 E Quando poi arriva Darksiders 3 Giocherò solo a quello Finché non lo finisco Perché voglio finire Darksiders 3 Per me è stata una bella sorpresa Io non mi aspettavo Uscisse un Darksiders 3 Ho rimasto fermo Che al 2 E avevano chiuso Invece Mi hanno fatto Una bellissima sorpresa Va bene E Fatto questo Ripeto la terza volta Ho detto questo L'ho uso come mio X3 Perché almeno Inizio a calcolare Da quel momento Quando devo chiudere La stream Perché mi mette veramente Un'ora Va bene Chiudo qua Ci vediamo domani Via Grazie a tutti